Ehi! Per tre mesi, tu c'è? Sì, ci sono! 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 Sì! Andiamo, forza! No, a condividi, sarà! Poi, devo mandarti a risparare! Non lo sei! Si è volatilizzato. Me ne vado. Ehi, c'è che toglie il peccatamo. Pare fu la, che le che bagna. Ehi, siamo mancamato l'anzasa! Ah, ah, ah! Qua cent'anni ha avuto a fare... Qua cent'anni! Buongiorno! Qua cent'anni? Qua cent'anni-mi! Qua cent'anni va meno la loro sucre? Cont'anni è logato. Qua cent'anni va meno Norettorebbe la gru ste gi per mange Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh my gosh. Grazie a tutti. 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 A presto! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti